Mi ricordo una delle conferenze che abbiamo seguito, sono 54 settimane, 54 settimane conferenze su adolescenza per avere come soltanto concreto alla fine la frase, cazzo ti lascia Un po' di tranquillità ragazzi Il testo di questo pezzo fa, frate giusti Frate scialla, scialla frate, cazzo ti lascia Questo è il testo frate sciolla sciolla frate cazzo filandi sciolla frate frate sciolla cazzo filandi frate sciolla mi sembrava un po' sciollato era un po' sciollato leggermente lagnoso io lo farei un pelino ancora più lento per renderlo ancora più lento tipo oh 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 oh